La partita che abbiamo giocato contro i Laziali di Anagni è stata una buona gara chiaramente a cominciare dal punteggio che ci ha visto vincere in casa per 3-0 condizionata in un certo senso da una condizione magari non ottimale dei nostri avversari che avevano due tra i loro giocatori più rappresentativi Muri e Kenny Moreno Pino forse in condizioni non perfette dal martedì mattina siamo tornati subito in palestra al palazzetto dello sport di Monza a pensare a preparare la partita con Olbia che si presenta già come una delle più impegnative in senso assoluto nel campionato ma anche in questa prima fase del torneo perché Olbia è una squadra che sta facendo molto bene ha vinto due partite ne ha persa una a pochi punti meno di noi a dei giocatori di altissimo livello è una trasferta impegnativa anche dal punto di vista logistico saremo ospiti di una struttura molto bella di una società che abbiamo ospitato a nostra volta nel precampionato con cui sono ottimi rapporti a cominciare dall'allenatore che è un ex del consorzio di Vagnosi un allenatore molto in gamba giovane